Oggi siamo a Bergamo in compagnia di Simona Previtali, titolare di una società che si occupa di rent car. Previtali, questo tipo di servizio si sta diffondendo anche in Italia? Diciamo di sì, in Italia è già cambiata la mobilità del cliente, infatti noi riceviamo tutti i giorni un sacco di telefonate appunto per avere maggiori informazioni su questo noleggio a lungo termine. Quali sono le ragioni di questo successo? Diciamo che i nostri smart driver, oltre che avere l'opportunità di guidare ovviamente sempre auto nuove in tutta sicurezza e comfort, pagano proprio per l'utilizzo effettivo che fanno del veicolo. Inoltre senza dover acquistare per forza un'auto possono provare anche le nuove motorizzazioni, diventando così anche eco-friendly. Forse influisce anche il fatto che in questo particolare momento le persone non si sentano di rischiare acquistando un'auto? Beh, diciamo che questa crisi sicuramente ha influito e ha incrementato parecchio il nostro lavoro. Infatti giornalmente noi riceviamo un sacco di telefonate proprio per avere informazioni su questi noleggi a lungo termine, perché la gente oggi ha molta paura di investire. L'acquisto di una macchina, sappiamo benissimo che purtroppo un bene necessario per il lavoro e per la tipologia di vita che svolgiamo, diventa un acquisto importante al giorno d'oggi, mentre col noleggio a lungo termine il cliente si sente più sicuro avendo un canone mensile e non investendo comunque tutto il capitale in un'auto. Cosa comporta la mobilità al consumo? Diciamo che all'interno di un unico canone mensile si hanno diversi servizi, tra cui da non sottovalutare un pacchetto assicurativo completo. Tra le altre cose tutte le macchine a noleggio a lungo termine escono con una polizza casco, quindi creano zero problemi all'utilizzatore finale del veicolo. Parlando di assicurazioni, chi utilizza il noleggio a lungo termine perde la sua classe di merito? No, noi siamo in grado di congelargli la classe di merito per cinque anni e tutti i vantaggi che lui logicamente ha conseguito in questi anni. Ma dal punto di vista economico è un servizio conveniente? Diciamo che noi creiamo dei pacchetti ad hoc per tutte le tipologie di smart driver e l'utilizzo che fanno del veicolo, quindi direi che è molto conveniente economico ma anche sicuro. Abbiamo parlato di diversi vantaggi, voi però ne offrite uno in più ai vostri clienti. Sì, noi abbiamo voluto un punto di riferimento proprio sul territorio qua a Bergamo, quindi abbiamo creato questo ufficio di noleggio dove il cliente non deve passare tramite il numero verde ma si rivolge a noi per qualsiasi tipologia di servizio, dalla più banale a quella che invece per lui può essere importante. Quindi noi lo seguiamo non solo nella fase del contratto del noleggio ma per tutti i servizi e per tutta la durata del noleggio che appunto lui ha scelto di soffruire. Grazie per le informazioni che ci ha dato, saranno sicuramente molto utili a chi vorrà avvicinarsi a questo tipo di servizio. Ringrazio voi per aver fatto scoprire anche questo nuovo servizio che abbiamo.